Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. www.fondazione.it La nostra full immersion nell'arte triestina. L'ospite della prima parte del venerdì, argomento e cultura, siamo in compagnia del direttore artistico del Teatro Soveno, Daniel Malalan, che ringrazio per essere nostro ospite. Saluto a tutti, Lepo Straussam. Com'è la situazione? Il 23 ormai credo sia... No, il 27 quando era? Il 27, sì, il 27. Ma come dire, allora, diciamo che la situazione non è proprio rosea. Comunque in teatro cerchiamo sempre di sdrammatizzare un po' la situazione. Esatto, il 27 di marzo è la giornata mondiale del teatro e in un certo senso, almeno così, il governo italiano settimane fa, bisogna dire, perché come tutti sappiamo, la situazione sta cambiando molto rapidamente da settimana in settimana, per non dire proprio da un giorno all'altro. E quindi il 27 marzo, come questa data molto simbolica, anche il governo voleva dare un segno molto forte, proprio per una possibile riapertura dei teatri e delle sale cinematografiche. Adesso vedremo, perché il 27 marzo, insomma, sono due settimane, se non sbaglio, imminente, quindi bisognerà aspettare un po'. Noi saremo comunque pronti anche per quella data, se non altro, logicamente porteremo avanti un discorso online, via web, leggeremo, ogni anno c'è anche la lettera, come dire, in questa data molto particolare, quindi qualcosa si farà. La situazione dei, noi ne discutiamo ogni volta che ci vediamo, insomma, anche con altri direttori, con gli attori, eccetera, la situazione vostra del teatro in genere è particolare, no? Perché voi comunque dovete lavorare proprio per farvi, perché questa è l'altra, come posso dire, catchphrase, abbiate pazienza, io arrivo al venerdì e ho difficoltà. Senza parole. Sì, prendo le prime parole che mi passano davanti, anche se, diciamo che il motto è quello di farvi trovare pronti comunque, immagino che sia difficile anche lavorare in questo modo, perché credo che poi anche gli spettatori, e magari di questo poi parliamo anche psicologicamente, che sono pronti per rientrare, però devono trovare qualche cosa di pronto, ecco, insomma, no? Allora, sicuramente in teatro noi lavoriamo su due livelli diversi, un livello è quello che alla fin fine pubblichiamo, tutte quelle cose che sono pubbliche, logicamente sto parlando da fine ottobre in poi tutto quello che stiamo trasmettendo via web o magari anche tutti questi social e così via, sul canale YouTube del teatro e così via. Quindi qua sto parlando di spettacoli d'archivio, ma non solamente di spettacoli d'archivio, anche tutte le varie, come dire, tutti i vari eventi che abbiamo avuto, che ne so, adesso già un anno fa, quindi la primavera scorsa, sia con i teatri del nord-est, i teatri stabili del nord-est Italia, quindi con i Rossetti, con il teatro stabile del Veneto, quello di Bolzano, per poi fare tutta una serie di spettacoli d'archivio con gli altri due spettacoli teatri della Primorsca, quindi del Teatro Nazionale di Nova Gorizza e del Teatro di Capodistria, ma anche tantissime offerte per i più piccoli, per i bambini, quindi anche coproduzioni con i teatri che ho citato e così via. E poi c'è l'altro livello, quindi tutto quello che succede, come potrei dire, a porte chiuse, dai, diciamo così, tutto quello che succede in teatro. Quello che è dietro le quinte, insomma. Quello che, esatto, dietro le quinte, sul palco e così via, logicamente abbiamo un numero di attori che sono comunque in contratto, abbiamo dipendenti a cui bisogna comunque dare da lavorare, a differenza di quel lockdown che era molto molto forte in primavera, quindi dove veramente è stato chiuso tutto, invece in quest'altro periodo... Perché potete fare appunto prove, eccetera, eccetera, esatto, con tutte le precauzioni, quindi la misurazione della temperatura a tutti quelli che entrano in teatro, con la mascherina obbligatoria, con il distanziamento e così, comunque almeno abbiamo questa possibilità affinché le prove possano continuare. È un po', come dire, è una sensazione un po' strana, perché comunque, diciamo, le prove continuano, lo spettacolo, adesso siamo praticamente alla quinta produzione del Teatro Stabile Sloveno, che ha ripreso questa produzione in particolare, avevamo già le prove un anno fa, quindi anche queste cose sono molto, ci voglio dire, l'anno passa molto velocemente alla fin fine, in questo caso meno male, vista anche la situazione pandemica, però, come dire, quindi lo spettacolo, come funziona? Abbiamo le prove, normalmente le prove di lettura, poi si va sul palco e si fa tutto, cioè si monta lo spettacolo come se ci fosse una prima, nel senso la scenografia, i costumi, le musiche, tutto quello che logicamente fa parte di uno spettacolo teatrale, arrivati alla data della prima, la prima non c'è, ma lo spettacolo lo riprendiamo con il video, quindi con la camera, con la telecamera, non per proporlo già in streaming o magari proporlo già per il pubblico, questo magari sarà una cosa, ci stiamo pensando molto, molto anche a questo aspetto qua, ma poi quello lì rimane una ripresa di archivio che... Sì, sì, che poi può servire per... Esatto, esatto, quando ci sarà la ripresa delle prove sarà una base da cui partire. È una situazione un po' strana perché logicamente per gli attori comunque la prima è una data importante, cioè la prima in un certo senso anche c'è questa... si vive questa... è un momento catartico alla fin fine, sia per gli attori come anche per il pubblico che viene a vedere lo spettacolo. Adesso questa possibilità non c'è, c'è per esempio proprio a livello ministeriale e così via, stanno andando avanti delle... ci stiamo coordinando anche proprio con gli altri colleghi degli altri teatri stabili, ma non solo dei teatri stabili a livello di platea, ma anche a tutte le realtà teatrali a livello proprio di Agis, quindi l'Agenzia per lo spettacolo dal vivo, affinché si possa trovare una soluzione. Perché adesso darò un paragone invece con la Slovenia, perché comunque collaboriamo parecchio anche con i teatri della Slovenia, la Slovenia comunque come sia da parte dei contenuti e dei programmi è un nostro punto di riferimento, parecchi teatri in Slovenia dall'inizio dell'anno, quindi sto logicamente parlando dall'inizio dell'anno 21, hanno deciso di fare spettacoli online, spettacoli in streaming, con la vendita dei biglietti, che sono comunque logicamente a un prezzo totalmente diverso da quello che può essere un biglietto ordinario per andare a vedere lo spettacolo in sala. Io sono amico di Facebook di Clemen Janesic, il famoso amleto, il miglior amleto che io abbia mai visto, questo è un altro discorso, io essendo pigro poi non applico le traduzioni su Facebook, però avevo capito che lì c'è un po' di, come posso dire, di più, diciamo anche se poi non è correttissimo, di più fermento in tal senso, no? Vedo che... Ma perché ci sono anche alcuni, logicamente, perché qua, vabbè, insomma, voi come televisione sapete quale deve essere il supporto tecnico per realizzare uno spettacolo, quindi anche dal punto di vista di una, come dire, di una certa dinamica, proprio dinamica televisiva o video, insomma, alla fin fine è una cosa molto simile. E quindi non tutti i teatri sono attrezzati in questo modo, però in Slovenia ci sono parecchie, ma non le chiamerei ditte, ma adesso proprio di gente anche molto giovane che si occupa, magari che fino adesso usava tutta questa tecnologia, che ne so, per video musicali, per queste cose qua, che in un certo senso hanno fatto delle proposte proprio anche ai teatri. si chiama in sloveno Treti Oder, che vuol dire il terzo palco, che è anche carino come nome, cioè non un palco, chiamiamolo ordinario, ma un palco alternativo, e loro coprono tutta questa parte anche logistica e così via. Ci stiamo pensando, vedremo, in Slovenia... È un bel nome, insomma, che... Che poi non è la stessa cosa, no? Guardare uno spettacolo in modo virtuale, guardarlo anche su uno schermo televisivo, è tutta un'altra cosa. Io, allora, io sono nato con... sono cresciuto con il venerdì della prosa, quindi appartengo... insomma, l'ho preso per la coda quella... Sì, ma un po' mi hai letto nel pensiero, lo devo dire da te, perché io mi ricordo, no? Tutti i, come dire, i drammi televisivi, ma anche il teatro televisivo che si faceva, però sono state tutte cose fatte nello studio televisivo e anche adattate per lo studio dove le camere seguivano gli attori, seguivano gli... cioè, proprio quello che succedeva in scena. Io ho visto, e qui c'è una differenza che, se volessimo, penso che potremmo andare avanti per chissà quanto tempo a discutere, però io avevo visto, credo un quattro anni fa, se non di più addirittura, al cinema, uno spettacolo teatrale del National Theatre. E notavo questa enorme differenza, perché appunto il venerdì della prosa a cui noi eravamo abituati era appunto... era un prodotto televisivo. Difatti raramente venivano riprodotti spettacoli ripresi a teatro, doveva essere proprio veramente qualcosa di abbastanza straordinario. Per dire, Edoardo rifaceva le sue commedie negli studi televisivi, non a teatro. E questo spettacolo che io vidi al cinema del National Theatre cercava in tutti i modi di riproporre l'esperienza teatrale. Però io dicevo, e dicevo anche a chi era con me, ma io a teatro mi diverto anche a vedere tutto quello che c'è sul palcoscenico. Potrei anche dire che magari quando Amleto attacca essere o non essere, siccome già lo conosco per una certa frequentazione, posso divertirmi a guardare quello che succede, se succede qualche cosa, alle spalle di Amleto. Qui avere già qualcuno che per conto mio sceglie quello, ciò che dello spettacolo io devo vedere, mi dà un senso di fastidio, perché a me diverte vedere i piccoli gesti di chi non sta proprio in primo piano, è qualcosa di completamente diverso. Ed è qualcosa di completamente diverso anche dai venerdì della prosa. Sì, sì, ma anche perché sul video un po' si perde questa tridimensionalità dell'atto teatrale o quello che è, poi magari, sì, come detto, uno vede quello che è in primo piano, invece tutto quello che magari è in secondo o in terzo piano... Che può essere curioso, insomma. E comunque, insomma, un paio di spettacoli, comunque adesso come ho già detto prima, alcuni spettacoli sono pronti, a magazzino, chiamiamoli così, sono pronti e aspettano che vengano poi finalizzati. Logicamente, ho parlato anche con le registe, perché ci sono tante registe, con i registi, se ci fosse qualche possibilità per fare questi spettacoli all'esterno, perché ci stiamo un po' attrezzando... E anche perché, insomma, l'estate arriva presto. Esatto, ci stiamo attrezzando anche un po' in vista dei mesi estivi, quindi da maggio in poi, da fine maggio, quindi giugno, luglio, agosto e settembre. Non tutti gli spettacoli, poi alla fin fine, non tutti sono adeguati a poterli fare anche all'esterno, alcuni sì, alcuni no, poi lì magari bisogna anche microfonare gli attori, ma qualcosa in questo senso si farà. E quindi vedremo pian piano come andrà a finire, specialmente dopo Pasqua. Ecco, tra l'altro, cos'era? Due settimane fa, se non mi sbaglio, c'è stata una manifestazione in Piazza Unità dei lavoratori dello spettacolo, diciamo dei lavoratori dove almeno io ho preferito puntare la mia attenzione su chi sta dietro le quinte, su chi lavora dietro le quinte. Io ho intervistato proprio un tecnico, un datore luci, se non mi sbaglio, del teatro soveno, che mi ha detto una cosa che è stata per certi aspetti abbastanza rivelatrice, nel senso che delle volte anche noi che conosciamo parte delle cose, non riusciamo a comprendere tutto, non riusciamo a comprendere tutte le dinamiche. E questo datore luci mi diceva la mia frustrazione in questo momento è che anche se appunto lavoriamo, però dice anche il nostro lavoro, il lavoro di dare le luci, posso dare anche un paradosso, ha bisogno del pubblico, perché dice noi diamo le luci, sì certamente per gli attori che stanno in palcoscenico, ma diamo le luci anche per chi poi dalla platea deve vedere lo spettacolo. Quindi c'è anche questo da tenere in considerazione, che anche loro, i tecnici sono quelli che appunto non ricevono l'applauso se non per interposta persona, però lui diceva siamo artisti effettivamente anche noi. Ah beh, ma sì assolutamente. Sono d'accordissimo da quanto detto, anche perché logicamente quando si parla di teatro, ma non so di teatro anche di film, di cinema, di televisione, la prima cosa che a tutti viene in mente sono quelli che li vediamo sullo schermo, magari quelli che li vediamo sul palco. Ma dietro a tutto questo c'è, come dire, c'è un formicaio di gente, non solamente quindi quelli che sono subito in secondo piano, quindi quelli che sono veramente dietro le quinte, quindi tecnici, trucco e parrucco, guardaroba, poi i tecnici luci e così via, ma tutto quello che poi c'è a monte, quindi tutti gli artigiani che lavorano affinché, per poter ricreare uno spettacolo, falegnami che creano la scenografia, quindi quello che ha cercato di fare lo scenografo, Sarte, Sarti e tutto il resto per fare i costumi, i calzolai che fanno le scarpe e così via, per non parlare poi di tutto l'apparato amministrativo e anche logicamente per quel che riguarda la pubblicità, quindi anche i rapporti con il pubblico e così via. Quindi è veramente un mondo molto interessante, da quella fin fine, io poi tante volte quando ci penso, come mai sono andato a finire in questo giro? Beh, perché comunque è un mondo affascinante, come lo giri, ma devo dire la verità, che poi ci ho pensato anche un po', proprio il fatto teatrale ha sempre accompagnato l'uomo alla fin fine, perché se all'inizio era una questione di liturgia, se era una questione di, come dire, veramente di un rituale per esempio, alla fin fine è una messa, io ho fatto il chirichetto per parecchio tempo, la messa è teatro in un certo senso, il canto, quindi l'altare è un palco per esempio, e quindi anche lì io sono stato sempre molto affascinato dalle musiche, dal canto, da questa ritualità. Ma anche dai movimenti, perché se vogliamo... Sì, da tutto, e quindi anche se devo dire a te, che quello magari era anche molto collegato al paese, insomma a tutte le ritualità del paese, insomma eravamo in quei pochi ragazzini, che eravamo dappertutto, eravamo lì, eravamo anche nella banda del paese, nel senso nel gruppo musicale, e tutto, insomma, quelli eravamo, siamo ancora adesso, e tante volte insomma ci ridiamo sopra, ecco, sono stati dei bei momenti. Ma è vero anche, io adesso, sembra di essere Gianni Agus, quando diceva, ho fatto i giganti della montagna, però mi ricordo che quando la mia esperienza... Eh ma li ho fatto anch'io i giganti della montagna. I giganti della montagna. Sì, veramente, li abbiamo fatti a fiume, in collaborazione con il Drama Italiano, tre anni fa, nel 2018, con la regia di Paolo Magelli, cinque teatri di minoranza in coproduzione, cinque lingue diverse, era una Babilonia. Io dico più prosaicamente, io ho fatto il Rock y'Oro Show, ma... Certo. Però mi ricordo di quella esperienza che è stata fatta per divertimento, ma appunto mi ha dato anche modo proprio di conoscere che cosa significa tutto ciò che sta dietro il... dietro ciò che si vede. Però mi è capitato, adesso credo per voi sia la giornaliera come cosa, però c'è stato per un breve, un secondo forse, una sensazione, però abbastanza intensa, devo dire, di avere il pubblico in pugno. Cioè che io avrei potuto in quel preciso, ma ripeto, è durata proprio una frazione di secondo, che avrei potuto fare quello che volevo. Ti inebria da un certo punto di vista, a maggior ragione se non lo fai per mestiere, però a me ha anche un po' preoccupato, vuol dire che questa sensazione minima, ripeto, non è durata più di una frazione di secondo, però ancora me la ricordo, mi ricordo esattamente il momento dello spettacolo in cui è capitata e quello che stavo facendo in quel momento. Beh, ma è stata una situazione molto bella, secondo me, bellissima, quella frazione di secondo valeva... Valeva tutto, tutto, però, devo dire la verità, adesso sinceramente, mi ha persino un pochettino spaventato. Ah sì, credo, sì, ma ecco, proprio questo è quel momento che manca, in questo, cioè, un gioco di parole, il momento che manca in questo momento, cioè, quando c'è questo, l'incontro col pubblico, la prima, poi questo è anche il modo, magari quando lo spettacolo è finito, uno si rilassa, però in un certo senso vive questo momento, lo sente, lo percepisce e purtroppo in questo periodo, che adesso già dura quasi sei mesi, poi anche in primavera, veramente, ma non parlo da un punto di vista, che ne so, egocentrico, quello che è, però è proprio il momento che manca, non solo a quelli che siamo sul palco, come ha detto anche il citato, il nostro tecnico, manca a loro, manca al pubblico che viene in sala, manca a tutti alla fin fine, perché io vedo il teatro come una, un'esperienza di gruppo, un'esperienza che viene condivisa con tutti, in quel preciso momento, in quel preciso momento, logicamente ci sono spettacoli migliori, spettacoli, quello poi ci si può discutere e così via, ma in generale, veramente quel momento, che secondo me, lo sentono tutti alla fin fine, quel momento proprio di tensione, che magari poi alcuni proprio si rigirano, e poi la cosa si rilassa, quello che mi è venuto un po' in mente, invece, che certe cose poi possono essere applicate, anche a un discorso, ma non voglio dare adesso, un discorso ideologico, politico, ma sicuramente anche ai vari leader, che sono magari, magari anche delle forti personalità, percepiscono questo momento, quando riescono ad avere il proprio pubblico, o i propri sostenitori, o quelli che, in un certo senso, i followers, come si dice, adesso si dice così, ma sicuramente percepiscono quel momento, e quel momento, dà moltissima energia. E' quello che racconta Brecht, se vogliamo, in Arturo Ui, esatto, la costruzione di un... e dopo c'è solo il momento, chiamiamolo, forse il momento del non ritorno, quando uno poi prevarica questa linea, che è una linea molto sottile alla fine, quando uno si rende conto di questa forza, di questo potere, che uno può avere sulle masse, e così via, e quel punto è un punto molto delicato. C'è un documentario, che circola su Netflix, in questo periodo, che si chiama Hitler in Carriere, è un vecchio documentario degli anni, degli anni 70 addirittura, dove appunto la carriera di Hitler è analizzata anche, se non in maniera precipua, dal punto di vista del rapporto con i suoi uditori. E' molto interessante. Sì, ma certo, poi tutto il discorso della manipolazione, poi tutti i discorsi che comunque, insomma, non sono da ieri, sono già da tanti anni, storicamente anche già confermati. Ecco, il ritorno, adesso non tocchiamoci tutto quello che vogliamo, insomma, però avete in qualche modo tastato, nel senso, è palese che la gente ha voglia di tornare a fare quello che faceva prima, forse lo farà in modo diverso, insomma, però io ricordo che l'anno scorso l'allora direttore del Teatro Stavio del Fulio Venezia Giulia, Franco Però, disse noi siamo un po' preoccupati per il ritorno, perché abbiamo paura che il pubblico abbia ancora un po' di paura di stare insieme agli altri. Mi pare di capire che questo passaggio dovrebbe essere superato in partenza, secondo me. Allora, la cosa, ma dovrebbe essere molto semplice, un po' complicata, diciamo che qua stiamo parlando comunque degli effetti o delle, di come uno si sente proprio a livello psicologico, forse, magari, delle barriere che sono molto individuali, ci sono alcuni che magari non hanno nessun problema, gli altri che queste cose qua per ora magari hanno, per questo anche stiamo tendendo, c'è questa tendenza e cercheremo di fare la maggior parte, la maggior parte degli spettacoli anche all'esterno, proprio per far meno, come dire, questa prima, questo primo approccio un po' in una posizione in difesa. Però devo dire la verità che l'anno scorso il pubblico ha reagito molto bene, parlo del, sia durante l'estate che in quel primo periodo, anche poi quando, quando gli spettacoli si sono trasferiti in sala, alla fine, ancora aprile o maggio, comunque non è che sono, all'esterno non da, non si saranno ancora a 22, 25, che ne sono 30 gradi, quindi bisognerà fare alcuni spettacoli comunque anche in sala. ma la gente poi, quelli, almeno quelli che sono venuti, si sono resi conto che è uno spazio comunque protetto perché all'entrata si misurava la temperatura, c'erano le liste di tutti gli spettatori proprio per dare la possibilità della tracciabilità degli spettatori se fosse successo qualcosa. e quindi io spero che la gente dimostrerà di avere comunque voglia di partecipare a questo tipo di eventi e di condividere questi momenti insieme anche ad altre persone. Quindi aspettiamo, fiduciosi, e poi vedremo pian piano come le cose andranno ad evolversi. Qual è la, allora, questa è una domanda in genere che non mi ricordo, l'ho fatta a qualcuno e l'ho visto un po' commuoversi, non mi ricordo a chi per dire la verità. Quest'anno che è passato è fatto anche di immagini che uno si porta dietro. per te la chiusura, diciamo così, l'anno di chiusura del teatro la focalizzi con un'immagine particolare, cioè con o con una sensazione che si ripete che so, ogni volta che magari farete capolino dentro la platea, eccetera, c'è qualcosa che ti ha colpito o che continua a colpirti di questo periodo? Ma comunque devo dire la verità che sì, vabbè, non solo una, ci sono parecchie, tante volte mi ritrovo, che ne so, alle 21.30 a casa e dico oddio, adesso ci sarebbe l'intervallo a teatro o magari queste cose qua. Ma diciamo se cioè per definire invece in generale io la vedo come un po' una pentola a pressione tutta la situazione, cioè un po' ho capito, cioè come un po', come se un po', come se l'acqua stesse bollendo in continuazione anche e aspettando questo momento ma è un po' è un po' come quando ci si avvicina la prima perché c'è la tensione cresce questa voglia comunque di andare sul palco anche la vedo in questo modo comunque in un modo molto positivo così però alla fin fine devo dire la verità che nonostante il lavoro a teatro finisca molto prima come magari finiva ancora fino a un anno fa di lavoro ce n'è quindi siamo pronti cercare di lavorare un po' prima di mattina eh sì si va a dormire prima si va a dormire prima si va a dormire prima e ci si sveglia un po' prima racconta un aneddoto c'è un aneddoto che riguarda niente cene dopo spettacolo c'è un aneddoto fino alle due di notte che riguarda Ermete Zacconi questo grande attore italiano degli anni credo dei primi del secolo scorso il quale un giorno doveva andare in tribunale per testimoniare e quindi dovette svegliarsi di mattina presto per magari alle otto e un quarto doveva presentarsi in tribunale sono le orari tre mesi tant'è vero che quando uscì di casa e vide che c'era della gente normale che girava e dice accidenti ma sono tutti testimoni questi però insomma un po' mi fa ricordare io non so ma non dico in che mondo vivevo vivevo in un mondo onorale ma quando io andavo a scuola ma anche alle superiori io ero convinto che in strada non ci fosse nessuno nel senso perché se noi siamo a scuola tutti fanno qualcosa cioè non è che io non avevo questa percezione invece poi mi sono reso conto no cioè il mondo va avanti in un altro modo alcuni stavamo a scuola gli altri andavano per negozi a comprare i terzi andavano a lavorare in realtà in realtà adesso che mi ci adesso che mi ci fai pensare anch'io avevo un pensiero del genere durante la scuola che non che non ci fosse nessuno comunque in strada esatto è come come se il mondo si fermasse un po' in una cioè ognuno è dentro in qualche a qualche spazio in qualche spazio allora Daniel grazie davvero per essere stato con noi buon lavoro buon lavoro a tutti anche a tutti gli attori a tutto lo staff del teatro rosoveno e davvero la prossima volta che ci vediamo dovrà essere per dare delle date certe e per parlare di spettacoli e per parlare anche del pubblico che potrà andare a vedere questi spettacoli perché così funziona tante grazie grazie per l'invito e grazie anche per seguire il nostro lavoro dopo la pubblicità ci occupiamo di Bergagna quindi l'appuntamento con Trieste d'Arte grazie a tutti